1700 pagine di testimonianze e atti che sanciscono definitivamente la disonestà e l'incompetenza attribuite ad aziende private ma anche a istituzioni pubbliche, servizi di soccorso, politici, locali e governo nazionale. Ecco in sintesi il rapporto finale sul rogo della Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14 giugno 2017, nel quale persero la vita 72 inquilini, fra cui la coppia di giovani architetti veneti Gloria Trevisan di Campo San Piero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza. Il rapporto, atteso con ansia dai familiari delle vittime, mette in rilievo negligenze normative di manutenzione e di controllo moltiplicatasi negli anni della privatizzazione e della gestione di tanta parte dell'edilizia popolare pubblica del Regno Unito, definendo l'incendio che distrusse l'imponente grattacielo nel quartiere di Kensington in Chelsea come un disastro annunciato. Il Veneto pagò un caro prezzo con la morte dei due architetti, Gloria di 26 anni e Marco di 28, che da poco si erano trasferiti a Londra per iniziare il loro cammino professionale. Le fiamme vennero alimentate dai pannelli per il rivestimento estetico dell'edificio che negli anni erano diventati in una norma, sotto accusa anche i vigili del fuoco inglesi che non avevano preparato piani di evacuazione. Il primo ministro britannico Starmer ha chiesto solennemente scusa a nome di tutti i governi precedenti e le istituzioni del Regno, i familiari delle vittime e dei superstiti del rogo della Grenfell Tower. Soddisfazione è stata espressa dal padre di Marco Gottardi. Finalmente si conclude questa fase e si riconosce ciò che era evidente. Del resto le prove erano talmente schiaccianti che era impossibile che il rapporto uscisse in modo diverso, ha detto Gottardi. Il processo penale inizierà non prima del 2027 e per i familiari di Gloria e Marco questo aggiunge dolore ad un dolore infinito che non passerà mai.